Salone pronto finalmente, eccolo! Là c'è il grammofono di nonapina che ve lo ricordate? Mi chiedevate, l'altra volta vi avevo mostrato nel video il tavolo, però mancava ancora il tavolino basso dovevano arrivare ancora un po' di cose comunque noi abbiamo preso questo tavolo di Bonaldo in marmo di calacatta, bellissimo e anche il divano e il tavolino invece me l'hanno regalato come regalo nozze quello pure un regalo nozze l'abbiamo preso comunque da Mdesign Alicata vi lascio naturalmente tutto quanto dove ho fatto appunto anche la lista nozze guardate chi dirlo dimmi, dove sei? dove sei? dove sei? non ti vedo? terminiamo col piccolo Gabriele che fa gli scherzi mamma, glitza in corvaia al prossimo il video, ciao!